Ben ritrovati amici di LACI con l'informazione sportiva, partiamo dal calcio con l'addio definitivo alla Catanzaro di Diomaschi Camara. Il campione franco senegalese lascia il club giallorosso lanciando accuse pesantissime sul presidente dell'US Giuseppe Cosentino. Sentiamo. Giuseppe Cosentino non mi vuole, racconta Camara, non mi ha mai voluto e non mi ha mai stimato, non mi ha maffatto, ha solo sfruttato il mio nome nella speranza che vendesse più abbonamenti allo stadio. È questa la verità e voglio raccontarla a tutti. Una rottura totale ed unilaterale. Gio Camara, idolo dei tifosi giallorossi ed uno dei calciatori più amati della storia calcistica del capoluogo di regione, ha detto basta, ma non esclude in un futuro senza Cosentino un nuovo possibile ritorno. Tornerò a Catanzaro quando Cosentino andrà via ed una catanzarese lancerà un progetto reale e concreto perché quello di Cosentino non è un progetto. Già a dicembre le prime crepe nel rapporto tra lui e il patron, a gennaio la rescissione e qualche settimana dopo un nuovo accordo biennale tra campo e dirigenza. Sembrava tutto chiarito, e invece nell'ultima ora il nuovo addio, questa volta quello definitivo. Camara non giocherà e ne farà parte della dirigenza del Catanzaro, firmato Cosentino. E parliamo adesso di tiro dinamico, uno sport che sta prendendo sempre più piede anche a Vibo Valencia e in particolare a Ricadi esiste un centro d'eccellenza. Si chiama tiro dinamico ed è una disciplina sportiva che sta prendendo sempre più piede in Italia. Anche in Calabria si moltiplicano le associazioni che fanno di questo sport il proprio passatempo preferito. Precisione, velocità ed equilibrio. Il mix giusto delle tre componenti è accompagnato da tanta sicurezza e il gioco è fatto. Più avvincente del tiro al bersaglio e più performante del soft air, il tiro dinamico prevede diversi aspetti che non si trovano nelle altre discipline di tiro più tradizionali. Il movimento del tiratore, i bersagli mobili, i bersagli multipli di differenti tipologie, le varie distanze degli obiettivi, la libertà di interpretazione che ogni singolo atleta può adottare per risolvere i vari percorsi di tiro, la continua sfida contro il tempo per svolgere l'esercizio e la possibilità di praticarlo sia con pistole che fucili. Tutte queste particolarità rendono il tiro dinamico una disciplina sportiva unica ed inimitabile. In provincia di Vibo Valencia esiste una vera e propria accademia del tiro dinamico, un luogo divenuto ormai un centro di eccellenza di questo sport, associato e riconosciuto dal CONI. Diversa è l'iniziativa intrapresa in questi anni, Fiora all'Occhiello e il Trofeo Città di Vibo Valencia, un evento in cui si prevede grande partecipazione di atleti, sia uomini che donne, provenienti da tutte le parti d'Italia e che si cimenteranno, ognuno nella propria categoria d'appartenenza, ad affrontare i vari stage opportunamente montati dai responsabili dell'Accademia, Francesco Corigliano e Marcello Del Vecchio. Termina qui l'informazione sportiva della C, grazie per averci preferito e buona domenica.